e benvenuti ragazzi bentornati in un nuovissimo video oggi vi parla il vostro sir jack e benvenuti e bentornati nel regno del sir come state cavalieri spero tutto bene e oggi andremo a fare un video di qualche pochi minuti perchè oggi sarà la mia prima unboxing nel canale cioè un unboxing di un gun 12 maglev come potete vedere adesso niente lo andremo ad unboxare vai allora questo gun 12 maglev mi è stato regalato da mio papà perchè mi è stato regalato da mio papà che è di qua di fianco ciao saluto proprio allora come potete vedere qua all'inizio c'è tipo la carta di credito della gun che adesso vi faccio vedere meglio questa scusate ma c'è molto sole quindi non si vede molto bene questa è la carta di credito della gun bellissimo allora grazie pa sembra migliore e questo è tipo una roba da scannerizzare che ti dà le istruzioni allora raga qua c'è il cubo non lo apro subito perchè perchè adesso andremo ad aprire gli attrezzini allora vi devo dire che l'avevo già aperto perchè cioè ti arriva un gando di smaglem va bene che lo puoi aprire in video però lo volevo aprire anche da solo nooo che bella la bag migliore al mondo la gun bag ha un tessuto bellissimo ha il logo che è una roba fighissima uh gli attrezzini vabbè sono questi i soliti attrezzini della canna e ci sono anche i magneti di riserva negli attrezzini quindi sono anche molto importanti adesso arriva al pezzo forte ah e qua ci sono tutte le istruzioni per lubare per chi non sapesse cosa fosse vuol dire lubrificare i cubi cioè farli diventare più veloci e smontare il cubo adesso andiamo veramente al pezzo forte io potrei stare ora a fare questo perchè è troppo rilassante però come potete vedere questo è il gun 12 magleb andiamo a provare una sexy move wow algoritmo feedrich buonissimo algoritmo 4x4 ok allora ragazzi io sono entusiasta di questo acquisto e niente raga ve lo consiglio un sacco però un po' più avanti porterò un video dove lo spiegherò meglio lo smonterò e vi farò vedere il meccanismo e farò anche un video tra poco per i 50 iscritti seguitemi seguitemi e lasciate like e condividete questo video anche a vostra nonna fatevi degli account fake per favore e e niente questo acquisto lo consiglio a tutti però potrebbe andare bene anche per i principianti un gun 356 rs che non è magnetico però potrebbe essere anche buono ciao raga ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo al prossimo video